Il giardino dei veleni di Anwick, un'esperienza unica tra bellezza e pericolo. Buongiorno a tutti da NewsMundo. Oggi vi porto nel magico e pericoloso giardino dei veleni di Anwick, nel Regno Unito. Situato al castello di Anwick, nel Northumberland, questo giardino botanico è famoso per la sua collezione di piante velenose e mortali. Dietro una nera cancellata, l'area dei veleni raccoglie piante come la Strychnos nox vomica, l'Hemlock e il Ricinus comunis. È pietato toccare o anche solo annusare queste piante, dato il loro pericolo. Oltre alle piante velenose, il giardino educa i visitatori sui pericoli delle droghe, mostrando piante come cannabis, coca e papavero da oppio. Tra le numerose curiosità, la brugmansia, un'afrodisiaco sudamericano che può anche risultare letale. Questo giardino è stato riqualificato dai paesaggisti Jax e Peter Wirtz, includendo una grande cascata con una casa sull'albero, un bar, una serra di 560 metri quadrati. È il giardino più ambizioso creato dal Regno Unito dopo il dopoguerra, un posto affascinante e unico che vale assolutamente la pena visitare. Un saluto!